Cos'è la fiducia in se stessi? È il coraggio di affrontare le sfide della vita. È il sentirsi sempre pronto. È la capacità di adattarsi al cambiamento e saper accogliere nuove opportunità. È vivere ogni giorno con la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile per le persone che più ci stanno a cuore. La fiducia è un sentimento potente. Ecco la sanificazione con tecnologia UVC di Osram. Rafforza la tua routine di pulizia e sentiti più sicuro ogni giorno. Basta un semplice clic. È stato dimostrato che la tecnologia UVC elimina fino al 99,9% di virus e microorganismi nocivi. Nell'aria che respiriamo. Nell'acqua che beviamo. Sulle superfici che tocchiamo. Per sentirsi più sicuri nell'ambiente domestico e in viaggio. Per tornare ad incontrarsi. Per prendersi ancora di più cura dei propri clienti. Per sanificare gli ambienti lavorativi. Così da infondere nuova fiducia nelle attività industriali e commerciali. La risposta. La tecnologia UVC di Osram. Azienda leader nell'illuminazione da oltre 110 anni.